Ciao a tutti gli amici di PartirePero, oggi sono la mia nuova amica italiana che si chiama Paola, Claudia, Marzia, Nathalie, mi avevi il tuo nome per davvero perché non lo so, Nathalie, la mia nuova mamma, una nuova mamma italiana mi ha comprato i pantaloncini, mi voleva comprare quelli bianchi per vedere tutto attraverso però gli ho detto guarda questa cosa proprio non si può, le ho detto vabbè se proprio non si può ti compro quelli verdi, quindi adesso che siamo esattamente a Brisbane Stiamo andando alla moto a lasciare questi, io ripagherò indietro i soldi che ho preso in prestito e poi che facciamo? Quali sono i programmi di oggi? Parla... Lei vuole le caramelle? No, fame! Che vuoi mangiare? Fame! Vuoi la pasta? No! Vuoi... Panino? O qualche schifo Ok Allora ci vediamo dopo quando riusciamo a trovare qualcosa da mangiare